Con gli incontri organizzati a Pescara, San Giovanni Tiatino e Chieti si chiude la fase del dibattito pubblico sul progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma organizzati dal coordinatore del dibattito pubblico con il coinvolgimento dei territori interessati dalla realizzazione dell'infrastruttura di RFI. Soddisfatto per l'esito del dibattito, il sindaco di San Giovanni Tiatino, che al TG8 annuncia l'approvazione del progetto di interramento del percorso ferrato con l'eliminazione del passaggio a livello di Corso Italia, che da anni attraversa e divide il centro cittadino di San Buceto. Il progetto presentato al dibattito pubblico è stato quello con l'interramento, un progetto che ha chiarito finalmente quello che sarà il percorso buono per San Giovanni Tiatino, quello di unire e ricucire il paese, quindi 620 metri di interramento. Dispiace per chi perderà la propria abitazione, ma purtroppo non si è potuto fare a meno di questo sacrificio. Un sacrificio che sarà ben ripagato, perché adesso inizierà la mia battaglia, come già sto facendo sui banchi di RFI, Italferra, Regione, Abruzzo e quant'altro, per dare un giusto convenzo a chi perderà la propria abitazione. Ma ripeto, soddisfazione piena, perché il progetto è stato finalmente accettato. Qual è il tratto interessato da questa proposta di interramento? Il tratto interessato parte da prima di via Pertini, circa 80-100 metri prima di via Pertini, per poi proseguire lungo l'asse ferrato, fino ad oltrepassare qui Corsa Italia. Quindi, ripeto, in totale 620 metri. I lavori quando partiranno e quanto dureranno? Come da programmazione, adesso c'è la fase giustamente a seguire il dibattito pubblico, cioè quello delle nuove varianti che verranno fatte sul progetto stesso. Poi c'è la conferenza di servizi, per poi partire con quello che sarà l'iter, giustamente, della gara e quant'altro. Il mio calcolo, così come ancora hanno detto, è fino a 2025, inizio al 2026. Questo per poter finalmente dire si parte. C'era stato chi aveva proposto anche un tracciato alternativo a quello che attraversa di fatto il paese, quindi lungo la collina. Cosa che avrebbe evitato, appunto, anche di bloccare il comune, proprio con dei lavori che andranno avanti così a lungo. Purtroppo non hanno voluto che si spostasse all'asse ferroviario, in primis, dalla linea aeroportuale. E poi andava, in qualche modo, a trovare disagio nel ricollegarsi verso Pescare. Quindi hanno annullato prontamente, purtroppo, questa ipotesi, così come quella di passare in un classe attrezzato. Ci abbiamo provato tante strade. Quali saranno le compensazioni per il comune di San Giovanni Teatino, alla luce di questi lavori, importanti e impattanti? Saranno piste ciclopedonali, ma molto importanti, come dicevo prima, dal dibattito pubblico siamo riusciti ad ottenere alcune, diciamo, positività per quanto riguarda le abitazioni. Faccio un esempio, a Virago di Garda, via Vittorio Emanuele, siamo riusciti ad ottenere, insieme ai tecnici, delle riduzioni di abbattimenti. È stato fatto un inventario dettagliato di ciò che sarà abbattuto? 15-20 edifici, in partenza era anche di più. Ogni abitazione che si potrà evitare, benvenga.